No, bravo Eh, se riesci poi prendimi un'arma buona da portarmi Eh, appunto, stai andando se ci stanno qui Questo è fino a niente Vabbè, dimmi tu che... Ah, prendi il... Sì, la ca... Sei caduto? Qua non c'era niente Questo era l'urso Otto, che fatto? Vabbè, vabbè, vabbè Dov'è il polmino più vicino qua? Vabbè, vabbè, vabbè C'è gente Là, 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 dal furgone E' anche uno qua sull'urso Vabbè, vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Il ragazzo è terrato qua giù Eh, là sulla scrisoletta dietro Ah, è questo è proprio... Ah, mi pusho Ma no Andate via Andate via Andate via Sì Gigi Ok, campione Scopato Ma ti lascio uno scudino Fai lasciami lo tico questo Ti troppo tutto qua Ti troppo tutto qua Il scudino Beh, niente Questo Questa è la cappa più in là Ma per cos'è che ti c'è? Che copertina è che ti serviva? Eh, per farlo uscire le settimane... Cioè le sfide delle settimane Ah, ok Ne uso una per tutte quante Tipo le sfide settimane Due Stagione no Poi ti do munizioni Dimmi che ti serve Eh, assalto, pompa Thanks Piccoli no? Eh, piccoli no, 60 Cioè se ne hai tanti Sì ne ho tanti Modello dai Ah, scudino a testa Vieni No Vieni al T-58 E vesti Ehm... Bands Bands le stai portando tu? Ehm... Sì, ho due band Vieni Ah, gente qua Poi Bands Qua davanti a me C'è un wick Nooo 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 Non passava al finale Nooo Qua... Eh, bro Ehm... Vabbè Vabbè Vole conferma per forza Comunque è one shot Io te l'ho tipo Trenta, trenta, trenta Sì, ce l'ho bene È la? Ah Infatti se ne va Ah no, va qua sotto Qui ha la scheda e se ne va questo Te lo dico Andate a prendere la scheda E' il compagno Se la pushi te lo killmi che sta scappando Cosa? Cosa? No, non riesco a fare niente Poi c'è una tastiera nuova Ma proprio vedrò Mi resti tanto... Sicuro... Ah no, no Mi resti tipo... Qua Cosa? Basta qua Ah, ah, sì, davvero Questo muro di seffa Appunto E' morto... Ah no, è morto uno Ah, ok Deppi al vortice Se non ciò No, mi tocca Ah, si fa l'ultimo fight No, non lo so neanche lootato Cosa è tutto? Ce la facciamo lì? Non lo so Non lo so Eh, Bromo, guarda quanta vita ho Ah, lo so Eh? Sì Guarda qua C'è te ne quelli all'online? Guarda, ci credo Ah Se no vai diritto in safe E mi resti all'onda Guarda di tutto Se giocavi come stai giocando ora Allora... Ci credo Ma non ho senso per guidare Ma non ho senso per guidare Allora... a presto adesso si vanno anche perché non ho capito questo fuori 6 perché posso darmelo io c'ho bastuta a me porti pure il tuo sì sì ma il popo te lo porto sii guarda se uno overbuild non è forte no se uno overbuild è proprio un altro poi sono uno spastico che si è c'è non mi sta togliendo niente cento di vita questo è guardia ladri raga ci riesco ok comunque fabbio tra poco mi dovrebbe arrivare tipo una miliotta vuoi che andiamola a prendere il lotto aspetta aspetta nocchio bro ma s'ho sponato con dei colpi pompa o me l'ho troppato tu? no no te l'ho dato io no ah vici perché me ne ho accorto dove ne ho accorto però la stava che sponavo due colpi ah ma io sto facendo con la schissamità di prima che se me l'ho accorto no se ti imbatto così se ti imbatto così ti è proprio un po' c'è un tipo là ma spaccato ste cose qua mi sono fatto 300 di deni io invece ne ho meno di te ma fuori si vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua e' vero che hanno sparato appunto troppo posso non venire rimane non farò il detenso ci sei trovato hai trovato pure ciao si posso da 50 ma posso e lanciarazzi qua si ah son due una a testa ah gg per te e' quello la jump bella essence team e' allora per me potresti farlo però in questo momento c'è un ultimo forte ci vado di lanciaro a zio va tanto vabbè vai oddio quanta vita c'ha questo vediamo chi si è iscritto 49 49 grazie mille eeeh stanz team per l'iscrizione ma come è che ti chiami non ti riascatturano panzo no forge team ah che vecchio forge ah ma su youtube si si ah beh là sono iscritto pensavo su twitch oh la tua ragazza sta facendo una roba 80 gas la tua ragazza ma che hai messo ma io non ti copri non è quello fa meno 54 le nature 54 eh da 2 metri che forge che è al sobro eravamo anche forti fra come? no che questo essence team è un componente del vecchio team in cui ero io però è da play no? e gli ho scritto mi chiamo forge team e lui risponde con forge con una faccina che piange oh super sad per un attimo che ho di modalità studio o che non riesco a farti? cheat non riesco ai carti cheat 136 va bene bra allora se vuoi stai live guardi questa partita e poi ti facciamo il provino ma forse ha già la sua amicizia ma devi andare su mila bro eh ci credo 500 ma che ti hai fatto ok possiamo uscire da questa stanza però speriamo ancora pagato che in realtà non riesco a uff che non va ti ho spostato io ah ma perchè tu dici che ci stava quello eh si io l'ho commutato pure no io no ah vabbè non sono così cattivo se vuoi non c'è spuglio no no eh bro non è che devi fare kill cioè ovviamente se ne fai tante bene però bisogna cioè devi essere bravo gente giù si mi susserò la gappa mi ha distrutto c'è tempo eh io lio vedo cosa faccio è sceso giù io no solo colpi bomba ho trovato f***a è caduta la webcam a te o a me a te no la mia non riesco a tenere la ferma no la mia non riesco a tenere la ferma chissà quella è quella c'è dietro c'è dietro c'è il pompa ha pure un bot devo lasciare tutti devo lasciare tutti con 10 di vita eh sto qua una hit a testa c'ha 34 di vita ho andato in chat di gioco forse voi c'è txnake se riesco a sbloccarla ci provo allora devo mettere dispositivo di ingresso chat vocale input microfono general audio no input definito ok questo microfono coberto si dispositivo di attività chat vocale input definito potrebbe andare io provo siamo la stanza e un attimo prova prova a parlare sto parlando ma aspetta aspetta che ti devo smutare parla che non esce ma no no vabbè non sento nemmeno eh deve avere quattordici anni anche se non pensi di scegliere solo su video fermo così è smutato ora si è smutato ok no così cuffia disattivo no 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 vabbè non importa ma quando attacco alla gamma si bugga tutto vabbè diciamo predefinito vabbè ciao però se vuoi rimanere in live magari che ne so vedrete oppure passi dalla mia stream no non passare non vabbè se non è c'è il tig semplice non non n ok lo sto fermo lì beh oggi o domani devo andare con mio fratello a prendere il regalo della cresima quindi probabilmente mi compro qualcosa per la postazione e domani ho detto tutti i nord benvenuti ragazzi a tutti e tra gli spettatori a presto povero ma quanto ci sta 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 stiera quale questa qua è mai preso ma è meccanica si è stracarino ce l'ho da un membrano ma la vorrei cambiare e anch'io l'ho cambiata da una membrana però non ce l'ho da tre mesi manco io ce l'ho avuto da giugno quello anche il mouse però il mouse ancora ancora ci sto infatti forse oggi mi prendo un mouse l'ho logitech io prima giocavo a 116 forse cambiati dpi eh lo so ma so quanti ce l'avevo ce l'avevo perchè io non ho il software no c'ho il c'ho il tastino oh là c'è un bell'amo così con l'enorme cazzurano vai prendilo io sono andato tipo qua i cavani sono andato si vabbè c'era un caccia di tetto e ho fatto un caccia qua dentro ci faccio ok c'ho un pompa bianco per te no io ho il pompa no io ho anche appena aperto un lama oh e che laggata arrivano da me ah io non so se riesco ad arrivare niente sono scappato io sono guardata buona vabbè buone adesso tranquillo no no Ma che cazzo t'ho fatto a miss arco? Mamma quanto l'odio il caccia, che fa schifo Ok ma il caccia Oh guarda qua Vieni bro Dov'è sta gente? Dove sono? Sono là Alla all'albergo Alla sotto Porco dio mi sei fermato tutto Vediamo Si è ripreso forse Non è che non ho materiali Un po' di 20 cm di materiali Un po' di master Un po' di master Non so, niente. Io ho bisogno di cura. Hai il tuo band? Eh vabbè anche io ce l'ho. Ma non te do il shield. Shield o no. Ho altri? Tutti? White? Se ne vanno col rifuto. Scappano col rifuto te lo dico. No dai. Guarda che. Via il rifuto, via il rifuto. Qua sotto. Andiamo qua sopra, andiamo qua sopra. Boh, io lo seguo. No, proprio. Anche non a te. Questo qua, io sto in testa. C'ho quello un bellino della season 5, se non sbaglio. Anch'io ce l'ho. Ah, pure io. C'ho quello della season 3, della season forse 2. Però io mi sto dando un medico e ti arrivo. Vabbè vai. Ci vedo. Ok. Ti arriva il compagno. Mi fa un piacere. Mi ha iniziato e finisci l'altro. Là c'è uno scudone. Ve lo do io? Guarda qua, guarda qua cosa c'è. Jump, cecchino, pompa viola. No. Merda. Che schifo. Hanno fatto il reboot. GGG per loro. Qua stanno bene. Sì, sì, ma ne ho ancora sei. Puoi fare lo scudone. Ah, aspetta qua c'è un distributore viola. C'è una jump, cecchino e un pompa viola. Oh, jump. Perché io il pompa ce l'ho già blu. Ma io il pompa bianco... Cioè, non so. Prenderei il pompa viola, però non lo so. Ho deciso. Eh, dimmi che sennò io prego. Dai, prendi il pompa viola. Eh... F***. Fra! Stai serio? Non c'è più il distributore. Comunque vabbè, sono scudini dai. Ah, fra! Non c'è più il distributore. Ah, fra! Ah, fra! Ah, me ne so accorto. Sono scomparso. Niente, sei bugato. C'è un tipo là. C'è un tipo là. Mitato 20 allo shield. Era in mezzo agli anni. Non so attento. Ho sparato un po' il pacchetto. A caso, perché ne avevo solo uno. Hai lootato quello sotto? Sì, sì, sì. Non c'è mai niente. C'è un pompa bianco, sì. Fatti sta pozza. Ci pusha. Oh, c'è chinato uno. Possiamo andare a pusha. Vai, vai. Io comunque avrò già un po' dal loot. Fa dietro, questo. Fa dietro. A terra pure questo. Vuol dire che sono diversi. Fermiamo questo e poi pushiamo ancora con la jump. Quante fuori c'hai, bro? Cosimo la jump. Quante kill hai? Fa piazzo. Quattro. Ce ne stavo una a terra che hanno appena restato. Ah, lo stai restato meglio. Ah, lo stai restando. Lo stai restato. Ecco qua. Lo ha restato adesso. A terra? Ho spittato l'altro a terra. Buono. Ma come solo a terra sono? Ma che abbiamo stato con lo squad? Mi faccio sto follow. Bra, che abbiamo stato con lo squad? Stanno due a terra pure. Eh, sì, sì, sì. Siamo con lo squad. Ah. Senceramente me ne ero dimenticato pure io. Ah, la safe, la safe. Ho una jump, vieni. Quattro le prendi. Eh, il 2-3 sono qui. Ci ne ho anche io, ti vedo tranquillo. Altroppo l'ho bello, ci spremiamo i fatti. Piccato che... Ci sarà ancora uno. Io ho quattro troppi. Eh, vabbè, bro. Scildini. Ok, ce l'ho pure io, ce l'ho pure io. Io vi porto. C'erano già quattro. Sono pure qua. Io so più scudini. Eh, io ho quattro bello, però. Mi lascio giù. Vai, vai, vai. Le posso prendere, mi sono. Vado? Ne ho cinque. Ne posso prendere uno. Metto il follow qua. Metto lì. Vai, piazzo. Oh. Eh, avanzano due scudini. Faccio pure una vabbenda io. Allora, droppami le bende. Prenditi gli scudini. Ah, io muro il freddo. Sta pure una maa cassa. Qua. Si. Metikit. Eh... Posso due scudini per un metikit. Si, vai. Si. Vieni. Vieni. E a me ne ho accorto che avevo mostrato lo scud. Segui. Eh, l'ho messo io scud, ma mi sono completamente dimenticato pure io. Guarda, dov'è dobbiamo andare sotto. Cazzo. Ti ho preso il vortice. Cazzo se... Ah, ti ho preso il vortice. Eh, questo non mi safe. Beh, usati questa cassa. C'è una cassa. Eh, guarda che hai poco tempo. Si, si, si. Devi fare tutto il giro. Guarda, se trovo il vortice. Io non ho un cazzo di mazza. Ah, c'è. Eh, mi sa che... Non ce la fa. Cioè, tu non ce la facci. Io ce la faccio. Oh, là c'è un tattico blu. Eh, quello non lo riesco a... Qua, aspetta, qua c'è un rift. Allora, riesco a aprire il tattico. Qua, quanto poi ci facciamo il palo. Un altro palo io. Dove che sta il tattico? Precisa dove hai messo il puntino? Eh, no, là. Là, prima della cia del loot. Però non ne sono sicuro. Beh, devi riuscirla a vedere. Sì, beh. Bro, qua ci sono due rift. Io mi prendo quello qui in alto, così tu arrivi su. Qua, qua ci sono tre rift. Qua, qua un tipo. Due tipi. Ah, no, le push-ups qua. Ah, no, sta usando il vortice, troppo. Ma cazzo è il loot? Eh, niente, non l'ho preso. Va bene, va bene, però. Usiamo il rifuto. Eh, scivico. Più questo. Sotto c'è gente che fa. Ah, sta, è pieno. Quei quelli là. Che vogliamo fa? Andiamo in safe. No. Tipo, ci mettiamo qua. Che pensi? No, qua, qua, qua. Dove sono delle costruzioni. C'è anche del loot. Ma qua sta pure uno, là. Lo so. No! Vieni, veloce, veloce, veloce. Cazzo. Non lo so da dove. Spacca qua sotto. Spacca qua sotto. Spacca qua sotto. Ok. Dietro. Oh, mi dava la cura. No, dai. Mi sa che ci usciono. Ah, appunto. Vadovi, vadovi, vadovi. Vadovi, vadovi. Un attimo. Vadovi, vadovi. Uno, questo spamma. Via. Maccato una Oh oh mi hanno distrutto Occhio a quelli con i cecchini Dov'è l'altra? Ah quello con i cecchini Se mi ha fatto il pelo Oh me lo vanno pure io il cecchino Mi insegna a usarlo Se non riesco a vedere lo distrutto Fra qua ci sono altri 4 shield in me Non ho capito dove sparano Ok no 5 ci pushano Questo sale nel ground Mi do sta peda e arrivo Ok qua sotto No sono due E' un falobro E' un falobro Ce l'ho pure io E' qua da me Ok a terra Ok a terra Se riusciamo a scendere Ah da dietro Ah ma scendere Si è chiuso Ho messo l'esame Ho messo l'esame Ho distrutto One shot Bro non c'è tra l'hitto Bro gli ho tirato un colpo di Vomph Non ho preso Non riusciò Oh cazzo sono caduto Ah io mi devo curare Faccio questo scudino Ho un falobro comunque Si 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 Guarda chi l'hai? 7? 8? Io ho 4 Buono buono Ci sta un medic No mi sono buggato No no ho scelto Tu fatti il medikit Faccio il falobro Anzi io Ma bro ci facciamo tutti il falobro Io c'erano 3 di falobro Lo posiziono io Aspetta mi amore Vieni qua da me Lo tengo via il medikit su Un tipo con la palla Vieni vieni Capri apri Capri apri Vai salvo Ok dai Guarda hai bisogno di colpi? Tipo cecco? No c'ho tutto C'erano 116 Minchia Eh stanno qua con le palle I materiali ne hai? Eh Oh 68 618 351 Ok Ti posso dare un po' di lane Eh magari si Ok Thanks C'erano qua con le palle C'erano qua con le palle Che non so Aspetta qua c'è altro loot No io ce ne ho tantissime Ma la faccio un attimo Ma la faccio un attimo Tu apri il drop Se riesci Ma dov'è? Ma Posso fare un drop Prova arrivo subito Ok c'è Qua stanno un bot di materiali 35 di lì 35 di lì